Scarichi abusivi confluenti in mare e più di 100 edifici di Pesaro non allacciati alla rete fognaria. E' questa la scoperta risultante da due anni di indagini di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Pesaro. Una scoperta che si è tradotta in sequestri penali frutto del costante coordinamento d'azione fra la Capitaneria e la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro. Procuratore Cristina Tedeschini che assieme al Comandante della Capitaneria Barbara Magro ha presentato oggi un biegno di indagine che anche attraverso decine di sopralluoghi aerei ha fatto emergere numerosi collettori di acque refle urbane che si mettevano in corpi idrici superficiali collegati al mare ma senza il necessario trattamento preventivo di depurazione. L'area maggiormente attenzionata è stata il segmento di 10 chilometri del Foglia in prossimità della foce. L'indagine si avvalsa di ripetuti campionamenti delle acque da parte dell'ARPAM e ha fatto emergere il superamento di valori limite previsti per alcune sostanze ma soprattutto ha fatto affiorare una complessa vicenda amministrativa partorita nel 2012 con il rilascio di autorizzazioni che infrangevano diverse direttive. Sono partiti i sequestri delle aree inquinate ed elevate sanzioni per centinaia di migliaia di euro. È un'attività questa che ha avuto origine con il sorvolo di un elicottero sostanzialmente. Noi periodicamente prevediamo un monitoraggio delle nostre coste con mezzi aerei che usano strumentazione dedicata. In particolare con attività di telerilevamento è stata verificata la presenza di situazioni di inquinamento che sono state poi verificate a terra. Da lì abbiamo risalito numerosi scarichi come è stato spiegato in conferenza circa un'ottantina di scarichi e sono state verificate anche documentalmente le cause dell'inquinamento. coinvolto il comune di Pesaro che laddove sia stato verificato che l'inquinamento derivava dal mancato allaccio di unità abitative provvedeva a emettere le relative ordinanze e l'80% delle quali hanno trovato adempimento. Quindi importanti sono anche i risultati e le ricadute positive di questa attività. Dalle indagini di polizia giudiziaria si è poi passata la bonifica dei siti inquinati con alcuni scarichi non depurati che sono stati intercettati e convogliati nel depuratore di borgheria. Operazioni di polizia ambientale che hanno tra l'altro permesso anche di riqualificare 30.000 metri quadrati sempre a ridosso del Foglia fra Pesaro e Montelabate in cui sono stati abbandonati rifiuti di vario genere, Eternit compreso. Aree di terreno bonificate e riportate a uno stato buono. Acque che sono state protette perché sono cessati e sono stati rimossi gli scarichi abusivi, sono stati bonificati gli scarichi che dovevano andare gestiti in altro modo e quindi il risultato concreto è un'acqua del fiume migliore, un'acqua del mare migliore e io spero in qualche maniera all'esito di questa comunicazione anche un risultato potrebbe essere una maggiore consapevolezza dei cittadini che le varie autorità lavorano spesso in grande armonia e ognuno portando il proprio contributo per migliorare la loro vita e non soltanto per opprimerla come invece a volte sembra essere percepito.